Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori lampadine smart. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base. Al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5. Abbiamo Fitop Lampadina Alexa. Fitop si impegna a offrire un'illuminazione domestica non solo intelligente, ma anche ricca di colori. Grazie a questa lampadina smart, puoi esprimere liberamente la tua creatività e trasformare l'aspetto di una stanza o di un ambiente con un semplice tocco. I consumi energetici sono bassi. Infatti, la lampadina utilizza solo 10 Watt, che possono sembrare pochi, ma equivalgono effettivamente a una lampadina a incandescenza da 90 Watt. Ha un flusso luminoso di 1000 lumen e, quando attivi la funzione di cambio colore, può simulare fino a 16 milioni di gradienti. Con la stessa lampadina, puoi ottenere una luce bianca fredda che raggiunge i 6500K o una luce bianca calda che arriva a 2200K. Ciò significa che puoi creare un'atmosfera vivace e creativa, un'illuminazione efficiente o un'ambientazione calda e confortevole utilizzando un unico prodotto. Numero 4. Philips Hue White. Philips Hue rappresenta un marchio di qualità e, grazie alla sua certificazione per l'uso umano, offre anche una soluzione estremamente semplice da utilizzare. Collegare questa lampadina è un gioco da ragazzi, di che è possibile gestirla tramite Bluetooth direttamente dal proprio smartphone, scaricando l'app dedicata appunto l'attacco e 27 è il più comune e la possibilità di regolare l'intensità. Luminosa rende le attività quotidiane ancora più piacevoli. La luce bianca calda è particolarmente indicata per creare un'atmosfera naturale e rilassante. Ma per accedere a tutte le funzionalità, è consigliabile utilizzare anche un Bridge Hue, che viene venduto separatamente. Attraverso il sistema Hue, è possibile sfruttare il controllo vocale, il controllo da remoto. Terzo posto c'è Wux lampadina intelligente punto la lampadina Smart Wux R4553 EON, prodotto versatile e compatibile con Amazon Alexa o Google Assistant, consentendo un comodo controllo vocale. La sua installazione semplice è un grande vantaggio. PIC non richiede alcun app aggiuntivo ed è compatibile con tutte le reti Wi-Fi a 2,4 GHz, senza necessità di abbonamenti a pagamento. È anche possibile controllarla da remoto tramite l'app gratuita Wux on.un'altra funzionalità eccezionale di, questo prodotto è la possibilità di impostare timer personalizzati, permettendo di accendere e spegnere le luci secondo le proprie preferenze. Inoltre, grazie alla sua elevata efficienza energetica di classe A++, contribuisce a ridurre significativamente il costo della bolletta. Molti utenti hanno già acquistato questa lampadina e si sono dimostrati molto soddisfatti, come confermato dalla media di 4 stelle. NUMERO 2 L'apertura Wi-Fi e connessioni più stabili.con una scocca realizzata in materiale, ignifugo e le certificazioni FCC, cero HS. Questa lampadina assicura sicurezza e conformità alle normative. Puoi gestirla comodamente tramite smartphone o tablet, scaricando l'app Meros, oppure mediante comandi vocali tramite la configurazione con Alexa, Google Assistant o SmartThings. Anche quando sei fuori casa, puoi facilmente controllare l'illuminazione grazie alle routine. La lampadina offre una luminosità regolabile e supporta fino a 16 milioni di colori RGB-CW. Infine, il numero 1 della nostra lista. TP-Link Lampadina. La nuova lampadina SmartWi-27 di TP-Link, serie TAPO, rappresenta un'illuminazione sicura, facile e intelligente per la tua casa domotica. Questa lampadina dimmerabile offre un controllo completo dell'intensità luminosa, consentendo di regolare la percentuale di luminosità da 1% a 100% punto la capacità di regolare l'intensità e il tono caldo della luce consente di creare un'atmosfera rilassante e mai invadente. Inoltre, grazie alla sua classe energetica A e al consumo di soli 8,7 Watt, la lampadina offre prestazioni eccezionali, addirittura superiori a quelle di una tradizionale lampadina a LED. Non è necessario collegarla a un app esterno, basta configurarla con la rete Wi-Fi di casa e gestirla comodamente tramite l'app TAPO. Se desideri controllare l'impianto con il tuo assistente vocale, come Alexa o Google Assistant, puoi farlo senza problemi. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo. Grazie per aver guardato il video.